Il Locri deve giocare, lo sport italiano è al fianco della Focetà e delle atlete, che non devono assolutamente cedere alle minacce dell'Andrangheta, intollerabili in un paese civile, e un coro quello del presidente del CONI Giovanni Malagò e del presidente della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavecchio, a sostegno della squadra di calcio a 5 femminile del Locri contro le minacce di malviventi. Tutti vogliono il ritorno in campo dello Sporting Locri, che per decisione del suo presidente, Ferdinando Armeni, ha deciso di chiudere per le intimidazioni subite da Sciacalli. Tanto che il prefetto di Reggio Calabria, Claudio San Martino, ha disposto adeguate misure di protezione nei confronti della dirigenza della squadra. Ma tutti spingono per far ritornare in campo il team domenica 10 gennaio. Accanto alla compagine calabrese si mobilita anche la nazionale femminile di calcio. È un fatto sconcertante, dice Patrizia Panico, capitano delle Azzurre, e propone alle sue colleghe di giocare in altre città, dove troverebbero accoglienza e tifo. Poi la promessa, siamo pronti a organizzare una partita di solidarietà tra le ragazze del Locri e la nazionale italiana femminile, una partita simbolo contro la malavita.